ciao a tutti dal vostro ice freedom e bentornati o benvenuti sul mio canale ciao ragazzi allora altra video guida in crisis 3 remastered andiamo a fare il trofeo leggenda rotta dettagli dicono ottieni tutte le informazioni sulla sella e inoltre ragazzi in questa video guida trovate anche tutti i potenziamenti per la nano tuta e una volta raccolti tutti eccetera eccetera man mano che le raccogliete sbloccate i potenziamenti dei sensori soddisfatte le condizioni che sono scritte lì a sinistra quando aprite il menu dalla nano tuta soddisfatte con le condizioni per potenziare al massimo tutti i sensori e poi alla fine prendete anche il trofeo allora per quanto riguarda in descrizione ragazzi trovate il minutaggio di ogni singola informazione di ogni singola potenziamento dalla tuta eccetera eccetera quindi guardate nel gioco quello che trovo io guardate se ce l'avete se non ce l'avete premete lì andate a prenderlo e quant'altro mi raccomando lasciate un like iscrivetevi condividete commentate eccetera eccetera andiamo un po a vedere ragazzi qua allora allora menu principale andate in extra informazioni sulla storia e in registrazioni troviamo tutte le scatole nere qua e nei dettagli del video sotto ragazzi troverete scritto per esempio scatola nera cpid 54 32 e basta non scrivo tutto il numero così accorciamo un po il titolo per il resto delle informazioni se lì invece dovete andare a guardare nei messaggi e qua trovate tutto trovate i palmari che avete raccolto quelli che vengono raccolti durante le missioni secondarie e poi anche quelli che vengono in automatico come questi qua che vedete adesso registro tuta questi vengono tutti in automatico ecco poi trovate anche i manifesti qua andiamo primo capitolo post umano partiamo ragazzi a manetta dobbiamo prendere la scatola nera numero uno qua è proprio l'inizio quando usciamo la cosa lì dalla nano tuta mette giù qua sotto c'è lì un nemico a terra lì scatola nera vola presa e questa è scatola nera cpid 103 01 poi andata avanti arrivate letto qua all'interno dell'edificio qua qua sopra lì c'è il palmare numero uno il gioco appunto ragazzi non è un open world quindi se corporation è abbastanza facile diciamo poi andata avanti arrivate qua a questo punto qua dove c'è psycho che vi dice due o tre cose che c'è point e qua troviamo il palmare numero due e acqua a destra eccolo la o la squadra raptor poi andata avanti nella zona che abbiamo visto poco fa con psycho lì dove ho taggato i nemici fate fuori tutti poi andate su dall'altra parte seguite sempre l'obiettivo e qua troviamo il palmare numero 3 panoramica sui chef poi andata avanti ragazzi arrivato a questo punto qua c'è giù il porto lì sotto che sta andando in fiamme ed è anche il punto di partenza andate avanti qua raggiungete psycho che aspetta voi qua da tirare fuori il visore e hackerare il coso lì che c'è lì a sinistra dove ci stiamo infilando siamo nel cuore della sella ehi chef gli alieni sono andati dovreste saperlo e qua finalmente troviamo il palmare numero 4 voilà preso super alveari chef e nave navi da colonizzazione poi andata avanti continuate sempre andare avanti col vostro carissimo amico psycho arrivati qua lui interagisce con computer e lì da parte c'è il palmare numero 5 mi hai strappato dalla mia tuta ora fatti vedere in faccia psycho andiamo mancano cavie stammi a sentire poi andate avanti noi usciamo da quella porta lì a destra metto andare l'obiettivo primario infiltrati nel liberty dome andate qua e apre la porta eccetera andate su fino in cima a questo corridoio lì a destra lì per terra troviamo il palmare numero 6 voilà preso il liberty dome poi partendo da qua andiamo a prendere il prossimo andate sempre verso l'obiettivo principale troviamo il palmare numero 7 una richiesta d'aiuto poi andate sempre avanti ragazzi non potete sbagliare arrivate qua c'è psycho dall'altra parte che sta facendo fuori un paio di nemici non si apre la porta guardate sul primo nemico lì a terra e trovate la scatola nera numero 2 poi ragazzi per ogni capitolo ecco scatola nera cpid 4140 per ogni capitolo riparto da zero ecco i collezionabili non sono progressivi ma vanno per capitolo capitolo 2 appunto benvenuti nella giungla qua subito all'inizio del capitolo dopo esser scesi con l'ascensore troviamo il potenziamento nano tuta 1 questo non lo potete mancare è impossibile poi andate avanti uscita all'esterno andate alla destra andiamo a prendere il manifesto eccolo lì manifesto cell visore via paf rete satellitare paradiso poi andate avanti arrivato al punto dove dovete raccogliere sto mega power fucile da cecchino andate alla a destra salito qua sopra arrivate su lì c'è lì il palmare numero 1 che non è sul nemico ma è appoggiato sopra cosa dell'acqua lì dietro esperimenti di laboratorio poi andata avanti arrivate nella zona dove ci sono un paio di nemici da far fuori e poi qua a sinistra c'è questo vagone distrutto qua la c'è a 190 metri c'è l'obiettivo principale di psycho che ci aspetta e se invece voi andate qua a sinistra c'è l'obiettivo secondario che si attiva andate la e qua troviamo il palmare numero 2 potenziamento nano tuta numero 2 palmare raccolto chef dalla fase 1 e poi qua troviamo potenziamento nano tuta 2 c'è un piccolo bug grafico nel numero poi andate avanti qua in questa zona c'erano un paio di nemici con la torretta anche qua dovete fare un mega salto c'è psicoli che vi guarda vedere se fallite col salto oppure no andate avanti arrivate qua c'è la scatola nera numero 1 scatola nera cpid 111.46 aspetta poi andate avanti arrivate al punto qua che dovete salire un paio di scale arrivate su guardate fuori in questa zona qua ci sono dei vagoni lì abbandonati mezzi marci e quant'altro andate giù qua sotto andate dentro e qua troviamo la scatola nera numero 2 scatola nera cpid 3249 poi partendo da qua andiamo a prendere palmare numero 3 buona eccolo qua colonizzazione dei chef fase 1 poi andate avanti seguito l'obiettivo arrivate qua dovete andare giù con la cordina qua una volta che arrivate qua girate a destra o a sinistra 180 qua c'è questo vagone qua dentro un vagone in fondo troviamo il potenziamento tutta numero 3 scusateli la correzione al numero ma ho dovuto farlo così perfetto passiamo al prossimo capitolo ragazzi la causa di tutti i mali allora noi arriviamo da là poi scendiamo ci sono un paio di nemici di sotto arriva nell'elicottero eccetera venite qua tenendo tutto a sinistra e andiamola a prendere la potenziamento un anno tutta numero uno guardate qua tirate fuori il visore aprite il coso qua e lì c'è il potenziamento poi dopo io da qua sono andato la presa l'ascensore sono salito di sopra e i prossimi li troviamo lì dove sto indicando con la freccia e dove ci sono anch'io lì col personaggio mi sono arrivato sulla con l'ascensore sono uscito da là sono venuto qua e qua c'è l'obiettivo primario e il secondario tratti subito qua e troviamo il palmare numero uno preso poi andate giù c'è tecnologia chef andate giù a fare l'obiettivo primario secondario era vicino all'obiettivo secondario troviamo il potenziamento nano tuta 2 ma l'ha preso poi andate avanti fate saltare quel pezzo di diga lì e quant'altro e poi ci ritroviamo la la davanti pam venite giù fino a qua faccio l'obiettivo primario alle 475 metri a 242 metri c'è il secondario esamina il trasmettitore cell e qua troviamo il manifesto evacuate new york poi partendo da qua andiamo a prendere la scatola nera numero uno subito lì vicino eccola qua tra che te presa scatola nera cpi di 105 61 poi andate avanti dove c'è l'obiettivo secondario e qua troviamo un altro potenziamento nano tuta numero 3 poi andata avanti adesso io qua mi ritrovo dalla parte dopo aver fatto il trofeo dalla ciambella lì sono andato giù qua e mi ritrovo davanti al coso qua lì praticamente c'è la torretta l'obiettivo principale filtrati nella struttura cell e qua sotto c'è il secondario usa i codici del trasmettitore che sono quelli che abbiamo raccolto prima su all'elicottero è lì altrimenti quando arrivate la ciambella andate la destra ragazzi arrivate dal senso opposto dall'altra parte arrivate giù qua c'è questo nemico qua a terra e troviamo la scatola nera numero 2 scatola nera cpi di 62 qualcosa ca troia poi andate dentro qua nella strettoia qua c'è un nemico con una ciambellina in mano raccogli manteni per recuperare i dati non si sa cosa siano lettera drp ecco questa vi sfido io ad aprirla io ho fatto qualche tentativo poi ho abbandonato sinceramente quando abbiamo potenziamento dalla nano tuta poi andate là dove c'è l'obiettivo principale esegui eseguire operazione martello pneumatico andiamo dentro qua troviamo il potenziamento nano tuta 5 e questo non fateci tanto caso all'obiettivo la perché se usate i codici non c'è l'obiettivo quindi comunque è qua poi uscita da qua andiamo a prendere il potenziamento nano tuta 6 ma c'è il coso da aprire col visore dovete saltar giù nell'acqua giù lì sotto troviamo il potenziamento ciò bisogna una canna da pesca per tirare sul potenziamento era un po spastico a nuotare il personaggio poi andate ancora dove c'è l'obiettivo principale sempre qua ragazzi dell'ascensore qua abbiamo raccolto il potenziamento poco fa fate il pieno di munizioni se non avete bisogno uscite andate alla destra saltati giù di sotto andate dietro nel tunnel e andiamo a prendere la scatola nera numero 3 voilà presa scatola nera cp id 114 115 poi finalmente è andata avanti interagite con l'obiettivo principale andate giù di sotto con l'ascensore arrivate giù ci sono due palmari il palmari numero 2 e il numero 3 voilà il raggio liberty qua troviamo l'altro attività di raccolta di energia chef poi andate avanti finite qua la sotto gli obiettivi e dovete salire con l'ascensore arrivate su qua la uscita dall'ascensore è andata a sinistra e lì a destra c'è il palmari numero 4 e fa male il tifone si si fa male da vicino ma da lontano fa cagare dati aspetto sel 112 prossimo capitolo ragazzi via le sicure la c'è l'obiettivo secondario recupera le informazioni sel lì c'è la torretta a destra abbiamo l'obiettivo principale quando arrivato in zona dove c'è la torretta che proprio qua davanti a me a sinistra lì sopra troviamo il potenziamento nano tuta 1 siamo esattamente a 78 metri dall'obiettivo secondario di 76 metri chiaro che chiaramente passando vicino alla luce la torretta ha visto la mia ombra è quindi lasciamo perdere salite di sopra e di ragazzi è che non mi vede la torretta non mi vede arrivate qua ci sono anche le munizioni lì su sul coso qua troviamo potenziamento nano tuta 1 poi andiamo a prendere i palmari numero 1 2 3 4 5 e 6 troviamo tutti qua l'obiettivo secondario tre sono qua di sotto e gli altri tre sono di sopra intelligenza alveare uno il due qua silverback numero 3 presidente carl rush poi gli altri sono proprio lì sopra dove c'è l'obiettivo secondario eccoli lì ce ne sono quattro e uno ce lo fa raccogliere per la missione quindi non è compreso nel conteggio e non messi 6 su 7 perché uno ce lo fa raccogliere per forza quindi lì esercitazione stella e stella rossa questo è lavoro qualcosa del genere 4 abbiamo avuto quella della missione identificatore perso e qua abbiamo il sesto senza contare quello di prima che lista completa dei soggetti 4 su 5 perfetto l'abbiamo raccolto di tutti i palmari in attimo fa è da qua andiamo prendere il manifesto e verso l'obiettivo 80 metri guardate qua guardate su di sopra il manifesto guardate fuori il visore e via questo è monopolio energetico cell poi andata avanti arrivate su dove c'è l'obiettivo principale dovete attaccarvi alla cordina per andare di là e dentro qua in questa stanza oltre alle munizioni e fucile c'è anche palmare numero 7 e il potenziamento nano tuta numero 2 protocollo stella rossa attivato e lì a destra cioè potenziamento nano tuta numero 2 voilà preso andiamo avanti arrivate qua questa scena dopo aver tirato giù una porta a cazzotti praticamente rigirata a sinistra indietro c'è quello lì seduto sul cesso e lì troviamo la scatola nera numero 1 la scatola nera cpid 32 52 ecco su lì sopra abbiamo appena raccolto la scatola nera scendete andate la verso l'obiettivo principale avvicinati al mentalista chef andate qua c'è il potenziamento nano tuta numero 3 poi andate la verso il mentalista chef eccolo lì interagite col mentalista chef eccetera poi andate verso l'altro obiettivo e subito qua troviamo il palmare numero 8 guardalo qua preso riattivazione mente alveare chef poi andate avanti arrivate qua c'è nemici che sparano fuori dalle finestre lì troviamo potenziamento nano tuta numero 4 vola eccolo lì sulla parete come in defibrillatore poi da qua poi andiamo avanti andiamo a prendere il palmare numero 9 scatola nera numero 2 lì abbiamo palmare e la abbiamo la scatola nera e lì su obiettivo trova il laboratorio a sella ecco qua il palmare sistema di energia comunicazione energetica chef profet ancora nessun segno di rush ricevo rapporto su attività dei chef in tutto il dom stanno annientando i sen uscite fuori andate qua e prendete la scatola nera numero 2 scatola nera cpid 4699 perfetto poi andate avanti ragazzi è arrivato a sto momento qua che dovete interagire lì per tirar giù le scale qua per entrare e l'obiettivo principale lì davanti a 24 metri qua troviamo la scatola nera numero 3 scatola nera cpid 4956 e partendo da qua andiamo a prendere il potenziamento dalla nanotuta numero 5 andate la lì a sinistra ed eccolo qua perfetto poi andate avanti seguite vostro amico psaico andiamo a prendere la scatola nera 4 palmare numero 10 e 11 più il potenziamento nanotuta numero 6 tutti qua sotto sono difficile mancarli perché è tutto stretto corridoi però non si sa mai qua troviamo troviamo cosa qua scatola nera eccola qua scatola nera cpid 12040 poi andiamo a prendere palmare numero 10 eccolo qua soggetto sergente michael saikas saikas che sia andiamo a prendere palmare numero 11 ripalmare e lì potenziamento nanotuta 6 voilà monitoraggio dottoressa fontanelli voi girate lì a destra sulla parete c'è il potenziamento nanotuta 6 voilà preso e passiamo al prossimo capitolo ragazzi che è stella rossa qua siamo subito praticamente quasi all'inizio scendete dal tubo qua a meno che non cadete di sotto che dovete risalire per prendere palmare 1 più potenziamento nanotuta 1 voilà preso l'arcangelo e poi da qua andiamo a prendere potenziamento nanotuta 1 poi andate avanti verso l'obiettivo principale giù lì sotto c'è il mentalista chef qua c'è il nemico che parla entrate qua andate al piano di sotto dove c'è il tavolo da biliardo e lì troviamo il potenziamento dalla nanotuta numero 2 eccolo qua poi una volta che avete fatto la commedia lì col mentalista chef e il panzone che arriva giù dopo andate fuori andate alla destra guardate qua in mezzo i due palazzi quattro è una scatola nera numero 1 scatola nrcb di 94-11 poi andate avanti la destra avevamo raccolto la scatola nera poco fa uscite da lì andate a sinistra poi a destra arrivate qua oppure potete anche andare a destra e arrivate da là poi venite qua ci sono un paio di nemici che vi aspettano qua a fare la festa arrivate qua c'è il palmare numero 2 annullare l'attacco su new york poi da qua andiamo a prendere il manifesto che è subito qua dietro l'angolo guardalo lì orso cell e poi da qua andiamo a prendere il potenziamento dalla nanotuta numero 3 uscita da lì dove c'è quella porta lì andate sempre avanti la uscita qua c'è una torretta e lì vicino la torretta c'è anche il potenziamento andalo lì preso poi è andata avanti ragazzi è arrivato al punto checkpoint eccetera la c'è il buggy andiamo a prendere il palmare numero 3 e il potenziamento nanotuta numero 4 qua abbiamo il buggy che dobbiamo usare per fare le kill e qua troviamo il palmare eccolo qua procedere con l'attacco a new york quello di prima diceva non attacca a new york questo qua diceva attacca a new york va bene poi andate qua dietro l'altro carro troviamo il potenziamento numero 4 voilà andata avanti vi ritrovate qua in fondo dopo aver fatto giù i mille scalini dalla tromba del ponte potete scendere qua andiamo a prendere la scatola nera numero 2 scendete fino ad arrivare giù lì davanti c'è il buggy e lì da parte c'è anche la scatola nera numero 2 eccola qua scatola nera numero 116 60 poi andate avanti vedete qua primario trova i proteggi claire ve lo da completato poi vi da l'altro infiltrati nel centro di comando dell'arcangelo cell e poi c'è anche quello secondario che è il secondario alla sinistra però voi qua tirate dritto se volete per il collezionabile qua ho fatto anche la video guida del trofeo delle kill è qua la stessa zona qua troviamo il palmare numero 4 e la scatola nera numero 3 ecco qua abbiamo il palmare qui dovete venire per forza per aprire il portone per andare di là quindi richiesta urgente e da lì andate a prendere la scatola nera che è da questa parte dei container voilà scatola nera cpd 104 105 poi andate avanti arrivare al punto che non potete più continuare con il buggy perché ci sono i sbarramenti dovete scendere appena passate i sbarramenti andate alla sinistra dovrebbe attivarsi anche l'obiettivo secondario ritrovate quel panzone lì da far fuori se volete farlo fuori altrimenti lo schivate alla destra vedete voi e poi andate giù verso l'obiettivo secondario che è qua distruggi il sistema di difesa ad area del centro di comando vi girate dietro proprio praticamente dietro potenziamento nano tutta numero 5 preso andiamo a vedere il palmare numero 5 qua arrivate all'obiettivo principale lì a 65 metri potete entrare sia da qua o dall'altra parte e qua c'è il container dove c'è il palmare che non è taggato non mi piaceva usare il visore quindi eccolo qua l'arcangelo attaccherà come da programma passiamo già al capitolo successivo ragazzi solo umano andiamo a fare l'obiettivo in zona alfa che è il primo qua in assoluto che ci troviamo vicini all'inizio del capitolo disattiva le difese aeree chef andiamo a vedere il manifesto numero 1 ma ma l'ha fatto prendere da qua e dietro al muro in pratica banco ma di identità cell ecco ero giù lì e quando l'ho taggato il poster è qua poi andate su dove c'è l'obiettivo principale lì che interagisce automaticamente e lì c'è anche il potenziamento dalla nanotuta numero 1 potete prendere quando arrivate su prima di interagire oppure anche dopo poi dietro di me qua abbiamo appena fatto l'obiettivo alfa quello che avete visto un attimo fa scendete andatela dritti tenendo a destra e qua vi si attiva una missione secondaria localizza il VTOL che è lì spostate le cose qua fate uscire i due compagni lì entrate e c'è il potenziamento dalla nanotuta numero 2 poi qua io ho appena fatto l'obiettivo charlie lì a destra 320 metri obiettivo secondario rimuove le mine intorno al VTF dei ribelli e a destra di quell'obiettivo lì ci dovrebbe essere l'obiettivo bravo che non è ancora attivo perché questa scatola nera numero 1 qua l'avevo lisciata quindi dopo ho tirato dritto e quello che vedete a 420 metri è l'obiettivo alfa quindi qua c'è l'obiettivo charlie per essere in chiaro vedete qua c'è la scatola nera numero 1 CPID 5432 poi da qua andate là verso l'obiettivo secondario sempre dritti lì davanti c'è un elicottero precipitato mezzo distrutto qua c'è il campo minato entrate nell'elicottero troviamo il palmare numero 1 voilà chef della fase 2 poi andate giù verso l'obiettivo bravo 385 metri 383 metri e lì si dovrebbe attivare un'altra missione secondaria che appunto è quella se non si è già attivata prima è quella di disattivare le mine intorno qua per i ribelli entrate dentro nel carro che vedete su lì al centro troviamo il palmare numero 2 e il potenziamento della nanotuta numero 3 eccoli qua palmare chef della fase 2 e certo e qua c'è il potenziamento voilà poi ragazzi qua dovete tornare un po' indietro perché questa mappa è la più larga che c'è ci fanno sbattere un po' a destra e a sinistra qua troviamo il palmare numero 3 praticamente lo troviamo dentro la testa della statua della libertà e praticamente si trova all'inizio del capitolo tutto a sinistra e lì qua c'è la testa appunto e su lì abbiamo fatto l'obiettivo alfa noi partiamo da là arriviamo lì e lì c'è l'obiettivo alfa il primo in assoluto là c'è l'obiettivo bravo e là c'è un obiettivo con un altro secondario fornisci supporto ultima ora poi partendo da qua andiamo a prendere il prossimo palmare il numero 4 praticamente dobbiamo andare là dove c'è la missione secondaria lascio il video partendo da qua per chi non avesse la missione secondaria attiva così sa esattamente dove andare chi invece c'è la attiva sa già dove andare qui e lì è lì è lì è lì è lì andate su lì dove c'è il carro le munizioni eccetera e lì a sinistra trovate il palmare numero 4 ci arrivo ai ragazzi con calma e circospezione ci arriviamo eccolo qua colonizzazione dei chef fase 2 poi andate avanti andate a fare l'obiettivo bravo io sono salito subito qua a sinistra dell'obiettivo e qua troviamo potenziamento dalla nano tuta numero 4 eccolo qua poi andate avanti andatela verso l'obiettivo qua c'è il mentalista chef o che sia poi il mentalista cos'è quella roba lì lì c'è l'obiettivo principale e lì sotto troviamo la scatola nera numero 2 no forse non è mentalista quello lì sopra ma è semplicemente un coglione lì così scatola nera CPID 97-116 poi andate avanti arrivate in questa zona qua dove dovete combattere questo mini boss qua troviamo il palmare numero 5 andate la una volta fatto fuori il mini boss lì andate la verso l'obiettivo principale a 30 metri andate giù a sinistra e ritroviamo il palmare numero 5 eccolo qua preso teoria fase 3 prossimo capitolo ragazzi dei e mostri che è anche l'ultimo capitolo qua praticamente subito all'inizio dove prendiamo l'arma troviamo la scatola nera e lì c'è un palmare adesso io qua prenderò anche il trofeo perché questi due qua li avevo lasciati perché non avevo tirato fuori il visore e quant'altro sono andato dritto non ho trovato niente quindi scatola nera CPID 49-50 comunque nella video guida trova tutti eh collezionabili ragazzi tutte le informazioni stelle eccetera eccetera vedete qua protocollo di evacuazione poi partendo sempre da questo qua dall'ultimo raccolto andate avanti qua c'è solo un percorso per intanto da fare quindi non potete sbagliare e andiamo a prendere la scatola nera numero 2 andiamo lì dove c'è questo vagone qua scendete e lì dietro c'è il nemico e c'è la scatola nera o la scatola nera CPID 50-50 poi andate avanti arrivati qua c'è il checkpoint una visione ci sono due stradine da prendere a destra e a sinistra andate a sinistra 4 nella scatola nera numero 3 potete anche fare dal giro da destra e poi dovete tornare indietro un pezzo CPID 99-105 poi andate avanti poco più avanti dal collezionabile che abbiamo preso poco fa troviamo il manifesto eccolo qua sell preso esperimento lavora per il debito poi andate avanti uscite fuori diciamo in una zona un po' più aperta qua lì c'è la navicella eccetera dovete andarla per forza a destra qua troviamo il potenziamento della nanotuta che è l'ultimo ragazzi questo che c'è nel gioco e il palmare numero 2 voilà potenziamento preso e poi lì sotto troviamo il palmare numero 2 eccolo qua colonizzazione dei chef dalla fase poi andate avanti ragazzi qua la prima zona dove vi interfacciate col coso là e poi vi da il potenziamento dalla tuta il sovraccarico lì bestiale che potete far fuori un sacco di nemici e prendere anche il trofeo lì un po' della tua medicina mette avanti qua c'è la visione e qua troviamo la scatola nera numero 4 vedi anche l'ultima l'ultima per capitolo magari non è l'ultima cpd 51 55 poi ragazzi partendo dalla scatola nera lì di prima andatela a destra che potete anche salire da sinistra e arrivare qua allo stesso punto però è un altro giro io sono entrato sono passato alla destra là c'è il mentalista chef e comunque è quello lì il palmare numero 3 rimane in zona dell'obiettivo secondario esamina il trasmettitore cell qua la zona che sia che ha fatto il giro da destra o da sinistra comunque è lì e ragazzi questo è l'ultimo palmare quindi io direi che per questa video guida è tutto fatemi sapere la vostra ragazzi ci sentiamo nel prossimo video statemi bene ciao ragazzi ancora qua chef dalla fase 3 no riesco no a terraformar uno